Cosa puoi dire ai tifosi italiani appassionati della Formula 1? Amo l'Italia, corro per la Mercedes, ma ho una profondissima ammirazione per il team che voi amate. Accetto la sfida ed il duello con la scuderia di Maranello. Questa stagione sarà fenomenale e non vedo l'ora di venire a Monza e di vedere tanti tifosi in tribuna. Non c'è l'ora di venire all'Italia per la raccoglia. Ci vediamo presto. Parole al miele queste di Hamilton, soprattutto per la Ferrari. Come le valo di Pino? Che non vede l'ora di andare alla Ferrari. Lui ha ancora un anno in contratto con Mercedes, ma secondo me se la Ferrari gli lancia l'amo, lui è a bocca. E potrebbe essere anche un trampolino ulteriore per le sue attività fuori pista. Sarebbe un testimonial strepitoso per la Ferrari. E poi questo sapore esotico che ha Hamilton, scuro, la Ferrari, il glamour, il mondo che frequenta, beh, è il mondo nel quale la Ferrari vende le sue macchine. Dalla Fanta Formula torniamo un po' alla realtà. Ma mica tanto Fanta. Sì, può essere. Vedremo cosa succederà in futuro.